Ciao, io sono Giulia. Ciao, io sono Ramin. Assalamu alaikum. Ciao, io sono Matilde. Ok, e tu? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Perché noi due non siamo Matilde. Lei è pakistano, come diciamo noi. Ah, ok. Ciao, io sono Nicolo. Ciao, io sono Nicolo. E tu? Ciao, io sono Danilo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ma tu dove sei? Bangla. Assalamu alaikum. E tu dove sei? Bangla. Bangla pure. Mi. Assalamu alaikum. Eh, tu non mi hai detto il nome, vero? Assalamu alaikum. Ciao, io sono Viola. Ciao, io sono Leonardo. Ma come? Ma pensare questo va mio? Parla molto strano. Come ti chiami? Leonardo. Leonardo. Leonardo? Ah, e sei l'inventore? Leonardo è l'inventore? Davinci. Ah, ok. Ciao, io mi chiamo Davide. Mi chiamo Frananzo. Frananzo. E tu da dove vieni? Filippino. Dimmi tu. Filippino. E tu? Tu come sei? Non parla. Ma... mi dice il tuo nome? Fran... Fran... Come si chiama lui? Che quel? Ci vuoi dire ciao? Con la mano. Con la mano? Con la mano? Ma guardami qua, guardami qua. Se non si pensano che stai... Guardami qua. Guardami qua. Ok. Ciao, io sono Stefania. Ah, e tu da dove vieni? In Cina. Ciao, io sono Mattina. Mattia. Ciao, io sono Stefania. Dimmi tu. Ciao, io sono Stefania. E Stefania? Hallo, io sono Emilia. Io sono Emilia. Emilia da dove vieni? Come si chiama? E io vieni da Deutschland. Deutschland? Oh! Deutschland. Deutschland. Ciao, io sono Vladi. Vladi? Vladi, come? Colab. Vladi. 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 Allora, aspetta, anche le maestre? Noi. Salve. 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 Ok. Ciao, io sono Maria. Maria. Ok. E tutti voi insieme chi siete? Allora, le maestre ci fanno fare... tutti dei cartelloni molto colorati. Questo è un cartellone che abbiamo fatto l'anno scorso. L'anno scorso, la seconda? Ah! Che si è abbondati in una palude. La maestra Tiziana per l'adunno ci ha fatto fare degli alberi, farli con la carta crespa. Abbiamo fatto questi alberi che ha presentato l'autunno e... perché sta venendo. Sì. Nella stella si è abbastanza la biblioteca. E ogni venerdì prendiamo un libro da portare a casa e ci lo leggiamo. Siamo! 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 Siamo!